Domani l'incontro, il primo ma non l'ultimo probabilmente, tra Iachini e il gestore dell'impianto Bonolis e Cantagalli per parlare della gestione dell'impianto di Piano Daccio. Nel frattempo però il Teramo continua ad essere un'entità ancora sulla carta. Vero che la Lega Pro con le due finali playoff ancora da disputare sta vivendo la fase finale della stagione, ma per chi, come i Biancorossi, hanno terminato un po' di giorni fa, questo dovrebbe essere il momento di ritirare le fila e ricominciare a programmare la stagione alle porte. Anche perché a metà luglio ci sarebbe il ritiro di rivisondoli, ma soprattutto il 24 giugno scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato. Giugno è anche il mese della chiusura economica dell'annata 2018-2019 e invece in questo momento, dopo l'iniziale euforia, quello che si percepisce è una lunga attesa senza che il calcio sia minimamente nei pensieri di qualcuno. La Rosa, con i giocatori sotto contratto e quantitativamente al minimo, il presidente Campitelli attraverso una nota ufficiale venerdì e ha detto che in caso di esito negativo riconsegnerà il diavolo nelle mani di un sindaco che osserva dal di fuori e per il momento non interviene nel merito, ma presto potrebbe farlo. Non si parla di confermo meno dell'allenatore. I direttori, sportivo e generale, giustamente attendono gli eventi e di trattative per i rinforzi neppure l'ombra. In più, la situazione debitoria, ufficializzata proprio da Iachini con un comunicato qualche giorno fa, certamente non ispira quella fiducia in chi nel teramo lavoro dovrebbe venire a lavorare. Tutto si svolge o al telefono o nelle riunioni tra soggetti, mentre le tre settimane che mancano al gong per l'iscrizione sembrano essere un tempo ristrettissimo. Cosa succederà? Non è facile saperlo. Quello che si rileva è la sostanziale indifferenza verso una squadra che rimane comunque la seconda realtà professionistica del territorio, inserita all'interno di vicende che col calcio però hanno poco a che fare. Ci si auspica un minimo di chiarezza, non solo su quei numeri che sono usciti. Chiaramente fino alle firme notarie la società rimane in capo a Luciano Campitelli, almeno fino al momento in cui non si capirà se arriverà o meno un nuovo proprietario. Nel frattempo l'attesa cresce, ma i destini del diavolo non sembrano potersi iscrivere già domani pomeriggio. Potrebbe spuntare fuori un piano B, ma il tempo non è enorme e soprattutto c'è una priorità, dare continuità societaria ad una squadra che rappresenta una città.